Che effetto fa ritornare a casa? A casa io sono stato sempre, perché anche quando andavamo a Grande Sud era sempre con Berlusconi, non mi sono mai tolto da casa Berlusconi. Oggi è un grande impegno, non ho più 40 anni, non ho 60, non siamo più il partito del 35%, ma siamo il partito del 15, ma ritorneremo. Ritorneremo grandi e sono convinto che tutta la gente non vede l'ora che forse Italia ritorni grande. Un motivo di orgoglio e di soddisfazione è aver ricevuto l'incarico dal presidente Berlusconi. Ma questo è per forza un livello di soddisfazione enorme, non posso negarlo, però è una responsabilità importante. Questo partito spiccherà il volo grazie all'orevole Miciche? No, se spicca il volo sarà grazie a tutta la gente che c'è, non a me, Infuso, Primo, Mancuso, tutti gli altri che ci sono, e poi qua a Caltanian Setta abbiamo una bellissima squadra. Partiremo, prenderemo il volo. Dove può arrivare questa forza Italia, l'onorevole Miciche? Questo è difficile dirlo, ma l'obiettivo è sempre il 51%. La tenda è comunque un compito gravoso? Sicuramente sì, i più belli, quelli facili sono noiosi. Grazie.